E meno per coppola uscire. E sai cosa ti dico? Io adesso, mentre vediamo ancora il signor Di Cesare, mi sposto, se i nostri amici sono d'accordo. Vado da Fabio Milano, perché se adesso l'angolo del come eravamo, l'angolo è tuo, di chi parliamo? Dimmi solo un nome. Eh, parliamo dell'ultimo, secondo me, grande numero 10 della storia del toro. Chi è? Rafael Martin Basquets. Andiamo col come eravamo. All the way sun or BBC One. La società Granata. Felice che sia venuto a giocare nel Torino. Sono felice che sia venuto per due motivi. Uno, perché ovviamente il campione è talmente indiscusso che mi fa piacere averlo tra di noi. Ma sono altrettanto felice perché è l'inizio di una nuova era per il Torino. E io voglio anche qui ricordare i tifosi che non si devono aspettare tutto il primo anno. Perché indubbiamente il Torino ha fatto, oltre al Martin Vester, dei grossissimi sforzi che sono partiti proprio da non aver ceduto, nonostante numerosissime richieste, i propri campioni che vanno da Miller, che vanno a Cravero, vanno a Benedetti, vanno a Lentini. E io voglio anche qui. E io voglio anche qui. 75 presenze, 5 reti, Raffaele Martin Vasquez! Abbiamo cercato anche Scifo ma non l'abbiamo trovato, ma ricordandolo insieme a Raffaele ricordiamo anche un periodo meraviglioso della storia del Torino, neanche tanto lontano. Davvero un grandissimo domenica, compie 46 anni, tanti auguri a Raffaele. Noi salutiamo Carlo Gemelli.